Non c'è più il rispetto delle regole tra maggioranza e opposizione, addirittura Marsilio che rivendica questo modo di procedere due pesi e due misure. Passa tutto quello che dice la maggioranza, anche se gli emendamenti sono intrusi, non si discutono invece gli emendamenti dell'opposizione, ma in realtà sullo sfondo ci sono problemi politici molto significativi. Intanto non c'è più trasparenza in questa regione, sono stati cancellati tutti gli atti di giunta regionale degli anni e dietro e non vengono pubblicati gli atti delle Asle. C'è una legge voluta dalle opposizioni sulla trasparenza e non viene rispettata. Bisogna davvero qui rivolgersi all'autorità giudiziaria. E poi che dire rispetto a tutto il resto della programmazione? È molto significativa, nessuna discussione sul PNRR, nessuna discussione sulla programmazione sanitaria con gli atti che vengono inviati al Ministero a Roma e territori interi, dai sindaci e addirittura il Consiglio regionale che non hanno potuto discutere e ovviamente licenziare i provvedimenti sulla rete territoriale. E ancora, leggi, tutte quelle delle opposizioni che sono lasciate per mesi e addirittura anni senza poterle iscrivere alla discussione e agli ordini del giorno. Parliamo di leggi importanti, testo unico sulla cultura, sul lavoro, sulla parità di genere e ancora la commissione di bussi. Insomma, ci sono tante purtroppo argomentazioni e motivazioni che non trovano risposta nonostante in questi tre anni, colpiti ovviamente come nel resto del Paese dalla pandemia, i consiglieri regioni d'opposizione in questa regione hanno dato ampia disponibilità. Ma rispetto a questa disponibilità ci si dice sostanzialmente voi non avete il diritto di discutere neanche i vostri emendamenti, nemmeno la possibilità di mettere all'ordine del giorno il PNRR, le risorse europee, le questioni legate ai trasporti, alle imprese, ai tanti cittadini che aspettano e neanche di sanità. Io penso che sia inaccettabile proseguire così.